Ciao ragazzi, siete pronti per dei prodotti Pokémon a prezzi da paura? The Poké Hunter Store è il negozio online dove potrete trovare moltissimi prodotti Pokémon insieme a tantissimi pre-order di nuove espansioni. Perciò che cosa state aspettando? Il link è giù in descrizione. Ciao, io sono Nick, bentornati sul mio canale. Siamo qui con un nuovo video. Oggi cosa vi porto di interessante ragazzi? Vi faccio vedere cosa andrò a gradare, cioè che carte andrò a gradare come futuro investimento barra collezione. Ho un bel malloppone, ho un bel tesoretto da mandare a gradare. Ancora mi devo decidere in quale casa mandarli, ma un'idea un po' precisa già ce l'ho. Ma non ve lo spoilerò ancora perché farò un video apposito su questo. E oggi vi farò vedere queste fantomatiche carte che andrò a gradare, che sono veramente tante ragazzi. E cercherò di descrivervi la carta meglio che posso. Andrò a dirvi, secondo il mio parere, quale voto potrebbe prendere, perché grado queste carte e che valore ipotetico hanno adesso. Detto ciò ragazzi, vando le ciance e iniziamo subito. Non sarei io se non iniziassi a mostrarvi i miei Charizard da gradare. Allora, iniziamo da questo bellissimo Charizard di evoluzioni orografico. Una carta che ha veramente preso molto valore in quest'ultimo periodo. Purtroppo ragazzi, tutte le carte sono in top loader, non le posso togliere perché non mi va, cioè ho provo di rovinarle. Quindi dovete vedere con il top loader. Se vedete delle righe o delle pressioni non sono sulla carta. Questo Charizard qui ragazzi è, a mio parere, Nermid. Ha qualche graffittino forse sull'olo, ma poca roba. Ha una buona centratura, perciò potrebbe essere benissimo un papabile 9,5 o 9. Giriamola ragazzi, la faccio vedere anche girata. Non potete vedere alcuni difetti, se ci sono perché c'è la top loader, ma avrà al massimo uno o due puntini bianchi. Quindi secondo me è un 9,9,5 a mio parere. Perché è il grado questa carta ragazzi? Perché, come vi ho detto prima, nel mercato Pokémon ha avuto un riazzo pazzesco. Questa carta adesso ha un valore fra i 100 e i 150 euro, quindi è tanta tanta roba. Come seconda carta che vi mostro è un altro Charizard di evoluzioni, o lo reverse questa volta. La centratura su questa carta non è proprio il massimo, quindi secondo me potrebbe essere un papabile 8, oppure 8,5. Perché alcuni graffi, due o tre forse, sul loro reverse, che ne fanno diminuire un po' il valore. La giriamo, anche questa ha due o tre puntini bianchi. E il valore di mercato adesso si aggira fra i, mi pare, 70-80 euro, se non sbaglio. La grado ragazzi perché, giustamente come l'altro, Charizard ha avuto un picco pazzesco nel mercato. Poi abbiamo un Mega Charizard EX, come gli altri due in inglese, bellissimo anche questo qua, full art. Le condizioni generali della carta sono buone, la centratura mi sembra abbastanza a posto. Anzi no, ha un lato sinistro un pochettino più grosso rispetto a quello destro, quindi potrebbe essere anche questo, un 8,5-9. Dietro non ha nessun problema, ma se non sbaglio questa carta qua ha una piccolissima pressione, che adesso non ricordo dove sia, però non è messa per niente male. Questa carta qui, secondo me, con la pressione potrebbe prendere 8, 8,5. E il valore di mercato di questa carta adesso è abbastanza alto, fra i 70-80-90-100 euro. Poi abbiamo un Mega Charizard EX. Questa è una carta che non vale moltissimo in questo momento perché il suo valore è fra i 25-30-40 euro, se non sbaglio. Le condizioni della carta sono buone, molto buone. Infatti non ha nessun puntino bianco, né niente, non ha pressioni, è perfetta come carta. Quindi potrebbe essere, secondo me, anche un 9,5. Mi sembra anche abbastanza ben centrata, perciò potrebbe anche rischiare il 10, ma non mi sbilancio troppo. Fa sempre parte del set di evoluzioni, quindi tanta tanta roba. Poi abbiamo un Mega Charizard EX, stavolta nell'altra sua versione. Questa carta purtroppo ha qualche puntino bianco, se non ricordo male, sì. La grado, logicamente, perché è un Charizard, un Mega Charizard. Questa carta qua, secondo me, potrebbe essere un 8, al massimo, penso. Il valore di mercato non lo conosco, di preciso. Potrebbe girarsi anche questa qui, fra i 25-30-40 euro, al massimo. Poi abbiamo un bellissimo Reshiram e Charizard GX, in inglese. Anche questa è una bellissima carta. In condizioni, nermiente. Non ha nessun segno di pressione, né puntini bianchi. Ve la faccio vedere anche dietro. Ha un valore ancora abbastanza alto, se non lo sbaglio. Vale fra i, penso, 60-70-80 euro. Da un po' che non la guardo. Logicamente la grado, perché si tratta di un bellissimo Charizard con Reshiram, full art. Poi, oltretutto, in inglese. Adesso passiamo alle carte promozionali di Charizard. Queste hanno un valore ancora abbastanza basso in questo momento, perché qualche collezione di Charizard e Reshiram ancora si trova. Questa carta, a lungo andare, assumerà un bel valore, ne sono sicuro, ragazzi, perché essendo una carta promozionale è molto limitata nella sua distribuzione. La centratura mi sembra perfetta, quindi potrebbe essere anche un papabile 10 questo. Non ha nessun difetto. Il valore di mercato, ragazzi, non saprei dirvi, mi pare sia il giri fra i 30 euro al massimo. Io ne ho due copie, anche questa è messa molto bene. Poi abbiamo questo bellissimo Charizard di Uraganoplasma, ragazzi. Questa è tanta roba come Charizard, ha un valore veramente molto alto in questo momento. L'unico difetto di questa carta, ragazzi, è che ha qualche puntino bianco, però per il resto è messa abbastanza bene. Anche la centratura non è male. Trovare queste carte ben centrate è molto difficile. Il valore di mercato è molto alto, ragazzi. Si aggira fra i 200 e i 250 euro, anche 300 in alcuni casi. E logicamente la grado, ragazzi, perché sul mercato vale moltissimo. È gradata, vale ancora di più. Questo potrebbe essere, secondo me, un 8 al massimo. Adesso passiamo agli ultimi Charizard che sono usciti, ovvero questo Charizard V, che non vale quasi nulla, vale 10 euro al massimo. Questa è un'altra carta che vorrei far gradare giusto per la collezione degli altri Charizard gradati. Poi abbiamo il Charizard che esce dall'ETB di Futuri Campioni, in italiano. Anche la sua centratura non è proprio al massimo, infatti è un bordone sotto pazzesco. È una carta che magari andrei a cambiare questa. Questa carta non vale così tanto, per il momento vale fra i 20 e i 25 euro al massimo. Poi abbiamo questo stupendo Charizard V, Shiny, di Futuri Campioni. La centratura non è malissimo, ma potrebbe essere un po' meglio. Questa potrebbe essere un 9-9,5 a mio parere, perché logicamente Mint non ha un puntino bianco, è perfetto, non ha nessuna pressione. Il suo valore di mercato, ragazzi, penso, lo sapete un po' tutti, adesso vale tra i, penso, 400-450 euro. Poi abbiamo un bellissimo Charizard VMAX. Questo Charizard sta prendendo molto bene in questo ultimo periodo, il suo valore si sta alzando dopo che si era praticamente abbassato. La centratura mi sembra a posto, anche questo mi sembra un 9-9,5, logicamente Mint, non ha nessun puntino bianco, né pressione, perfetto. Il suo valore di mercato in questo momento si aggira fra i 90 e 120 euro. Poi abbiamo un bellissimo Charizard VMAX Hyper, questo mi sembra veramente ben ben centrato, questo potrebbe essere anche un 10 a mio parere. Logicamente Mint, perfetto, non ha niente, neanche un puntino bianco, nessuna pressione, perfetto. Il suo valore di mercato era sceso, ma si sta alzando in questo ultimo periodo e si aggira fra i 280-300 euro. Adesso si sta alzando ancora di più. Allora, con i Charizard abbiamo praticamente finito, ragazzi. Adesso passiamo a destino sfuggente, ragazzi. Qua un po' di roba da mandare a gradare, come sapete ho il set di Furat completo, ma non manderò tutto a gradare, logicamente, perché mi verrebbe una botta dalla madonna. Ma le manderò solo alcune, quelli principali che secondo me possono assumere un po' di valore. Siamo da questo bellissimo Moltres e Zardos e Articuno GX. Questa è una carta molto, molto bella e da che era sottovalutata adesso sta avendo un picco bello alto, ma mi sa che scenderà di nuovo perché ci sarà la ristampa delle TB. Quindi, logicamente, in condizioni mint. Il valore di mercato di questa carta adesso, ragazzi, fa i 30-35-40 euro, quindi è tanta roba. Inizialmente ne valeva 5-10. Grado questa carta perché è una promozionale che diventerà irreperibile, quindi questa è tanta roba, ragazzi. Poi abbiamo un bellissimo Charmander Shiny di destino sfuggente, questo è veramente molto bello. La centratura non è il massimo, che in questa carta potrebbe essere benissimo un 9-9,5. Anche questa carta, ragazzi, non vi ho detto che voto potrebbe prendere, ma la centratura è perfetta, quindi potrebbe essere un 10. È davvero molto bello. Poi abbiamo anche il back, che è mint. La carta vale relativamente ancora poco. Penso valga al massimo 10-15 euro. Poi abbiamo la sua evoluzione, ovvero Charmeleon. Carta molto bella anche questa. Centratura identica a quella di Charmander, quindi 9-9,5 è anche questa. Mint non ha niente, ragazzi. Neanche un puntino bianco, perfetta. E anche questa vale come il Charmander, fra i 10-15 euro, massimo, penso. Adesso passiamo alle bombette, ragazzi. Qui abbiamo un bellissimo Umbreon GX Shiny. Questo vale moltissimi soldi. Infatti il suo valore si aggira fra i 120-150 euro, anche di più, 170-180. La centratura mi sembra perfetta, quindi potrebbe essere un papabile 10. Non ha, logicamente, nulla di strano. È perfetta. Poi abbiamo il suo fratellino, Espeon GX. Anche questo centrato mi pare alla perfezione, quindi potrebbe essere anche questo un papabile 10. Mint in tutti i suoi dati. E il suo prezzo, non ricordo quanto si aggira, ma penso posso arrivare fra i 100-120 euro, se non di più, ragazzi. Poi abbiamo un Sylveon GX. Anche questo ben centrato. Il suo valore è fra i 40-50-60 euro al massimo, se non sbaglio. Mint, logicamente. E anche questo, essendo un evoluzione evi, vale soldini, quindi vale la pena gradarlo. Poi abbiamo un Glaceon GX. Stesso discorso per i suoi compari di evoluzione. Mi sembra ben centrata anche questa. Quindi potrebbe essere un papabile 9,5-10 anche questa. Abbiamo un bellissimo Liffeon GX. Anche questa ben centrata. Un altro 9,5-10, 9 anche. Logicamente perfetta. Poi abbiamo un bellissimo OO GX. Questa è veramente molto bella come carta. È anche sottovalutata, a mio parere. Ha un prezzo che si aggira fra i 30-40-50 euro, se non sbaglio. Ben centrata anche questa. Potrebbe essere un 9,5 questa. È un po' meno centrata rispetto alle altre, quindi 9,9,5. Mint anche questa. E logicamente si parla di OO. Quindi è una carta molto apprezzata e vale la pena di gradarla. Poi abbiamo Darkrai. Darkrai è un'altra carta bellissima. Anche questa sottovalutata, ragazzi, a mio parere. Questa è ben centrata. Potrebbe essere anche questa 9,5-10. E Mint su tutti i due fronti. E ha un prezzo ancora abbastanza basso, ragazzi. Vale fra i 35-40 euro. Ecco, però se non sbaglio. Poi abbiamo un'altra carta molto bella. Tipo 1 GX. Essendo Pokémon in prima gene è molto apprezzato. Quindi vale la pena gradarlo. E poi è molto bella come carta. Ben centrata anche questa qui. La valuterei al 9,5-10 anche questa. Mint su tutti i due fronti. Beh, è una carta che disdegnavano tutti. Ovvero il Raikwaza GX promozionale. Questa carta è molto bella. E secondo me richiama tantissimo anche il Raikwaza Gold Star. Quindi può solo prendere valore. Essendo anche una promozione quindi limitata. Infatti molti in quest'ultimo video stanno cercando di accaparrarsene quasi tutti. Ma il prezzo è salito tantissimo. Infatti valgono fra i 40-50 euro l'una adesso. Anche questa mi sembra ben centrata. Potrebbe essere un 9,9 e mezzo. Anche questo. La giriamo. Mintissima. E come ultima carta di Destiny abbiamo questo bellissimo Mewtwo GX Shiny. Questa è una carta veramente molto bella. Il suo valore si gira fra i 80-90-100 euro. Ancora. Centrata molto bene anche questa. Potrebbe essere un 9,5 o 10. Mint su entrambi i fronti. E logicamente essendo Mewtwo ragazzi che ve lo dico a fare. Vale la pena assolutamente gradare. Adesso passiamo a un misto di carte. Che hanno già un valore molto alto. E che possono acquisire moltissimo valore con l'essere gradate. Qui abbiamo un Mewtwo GX incapsulato di leggende ridecenti. Bellissima carta. Che è stata avvaluta fortemente da Ila. Ben centrata anche questa. Molto ben centrata. Questa potrebbe essere un 9,9,5 sicuro. Logicamente è mint. E il suo valore sta crescendo in modo notevole ragazzi. Questa carta così, raw, viene venduta anche a 120-150 euro ragazzi. Quindi è tanta roba. Quindi gradata. Ne vale molti, molti di più. Poi abbiamo un bellissimo Mewtwo Emu GX Full Art. La carta è perfetta. È ben centrata. Questa potrebbe essere un 9,5 o 10. Mint su entrambi i fronti. E logicamente si tratta di Mewtwo ragazzi. Quindi vale la pena gradarle. Perché sono due Pokémon molto apprezzati. Il suo prezzo di mercato in questo momento non lo so di preciso. Ma si potrebbe girare fra i 40 e 50 euro. Poi abbiamo un bellissimo Mewtwo GX alleati promozionale della team. Anche questa carta è una carta molto sottovalutata. A mio parere. E può prendere un valore molto alto. Perché logicamente è una promozionale. Quindi è limitata dalla sua distribuzione. Ha un artwork. A mio parere è pazzesca. La centratura mi sembra da 9,9 e mezzo. Non direi 10. Logicamente niente su entrambi i lati. Poi abbiamo una carta veramente richiesta da moltissime persone. Ovvero Latias e Latios GX alleati. Nella loro versione alternativa. Questa carta ha avuto un boom pazzesco. E adesso un valore davvero molto alto ragazzi. Che si gira tra i 100, 150 e 200 euro. La centratura non è il massimo. Oserei dire che potrebbe prendere un 9. Anche per vedere il fatto ragazzi che questa carta è mint su entrambi i lati. Ma ha una piccola pressione qui. Adesso non riesco a farla vedere perché è in top loader. E questo potrebbe farne calare un po' il voto. Non vi dico di comprare ragazzi perché adesso è intoccabile. Però se riuscite a trovarla a buon prezzo, prendetela. Poi come ultime carte un po' miste abbiamo Celebi, Amazing. Poi abbiamo Raikou. Questa è una delle carte che ha intorno di più. Poi abbiamo Zacchan. Abbiamo Zamazenta. Il valore di queste carte ragazzi è fra i 30, 40, 50 euro al massimo su alcune carte. Ad esempio Girachi è una di quelle che vale di più. Così come Raikouaza. Le carte che valgono di più in questo set sono Girachi e Raikouaza ragazzi. Poi come ultima parte di queste carte da gradare abbiamo le carte Jop. Jop che in questo momento ne ho poche. Però vale la pena di farle vedere. Ovvero questo bellissimo Pikachu Karazawa. Ben centrato se devi dire. Forse è il lato destro un pochettino più ampio rispetto a sinistra. Però come centratura direi 9, 9,5. Logicamente Mint. Mintissima. Non è nessun tipo di problema. Questa carta io l'ho pagata ragazzi 28 euro. Ma sta salendo rapidamente perché le copie sono limitate. In quanto esce da box veramente costosi in questo momento. E poi abbiamo il set di leggende iridescenti o Shining Legend in giapponese. Ragazzi queste sono tutte Mint. Praticamente tutte ben centrate. Sono tutte papabili 9,5-10 secondo me. Poi abbiamo Lugia. Ma anche questo ben centrato. Poi abbiamo questo bellissimo ragazzi Raikouaza. Un po' meno centrato forse rispetto alle altre. Ma potrebbe essere benissimo 9,5. Poi abbiamo il Mew. Che è una delle carte più apprezzate di questo set. Poi abbiamo questo bellissimo Celebi. Poi abbiamo Volcanion. Un Pokémon che non apprezzo particolarmente. Però se voglio gradare tutto il set grado anche lui. Poi abbiamo Girachi. Questa è una carta molto bella. Poi abbiamo questo bellissimo Arceus. Come volete chiamarlo voi insomma. Come ultima carta. Già abbiamo questo bellissimo Genesect. Questo è molto ben centrato. Ok ragazzi. Questo è il mio bel maloppone da gradare. Ci sarà da spendere un bel po' di soldi. Però ragazzi. Il valore che possono assumere queste carte gradate. È veramente molto alto. Come al solito. Vi invito a passare dalla mia pagina Instagram. Dal mio Discord. Dal mio gruppo Discord. Dove siamo molto attivi. Passate anche dalla mia pagina Facebook. Che è tornata online. E' bella attiva. Passate anche da VideoJaze. Dallo suo negozio. Ma soprattutto anche da Poké Hunter Store. Che ha dei prezzi davvero molto convenienti. Passate anche dai nemici di Pokémon Station. E con questo è tutto ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Noi ci vediamo al prossimo episodio.